Abbiamo avuto migliaia di prenotazioni in tutti i siti della cultura che stiamo aprendo a partire da oggi, 30 di maggio gratuitamente fino al 7 giugno. È un'iniziativa che la Regione ha voluto chiamare La Cultura Riparte perché ripartiamo, riapriamo i luoghi della cultura, i luoghi della memoria, i nostri tesori ringraziando i siciliani e quanti in Sicilia si sono chiusi in casa responsabilmente permettendo che il virus e l'emergenza del coronavirus non facesse i danni che ha fatto anche in altre regioni. Il nostro modo di dire grazie è aprire gratuitamente con prenotazione online i siti della cultura. È un'operazione a costo zero per i siciliani, però ci sentivamo di fare questo ringraziamento. C'era anche una coppia di infermieri di Enna che ha lavorato nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria alla riapertura del parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Nei primi due giorni sono stati oltre mille visitatori, fra famiglie e turisti provenienti da diverse parti dell'isola che hanno aderito all'iniziativa la cultura riparte, prenotandosi per visitare il parco archeologico di Siracusa registrandosi sul sito aditusculture.com, gestore del servizio di biglietteria dei siti per la Sicilia orientale. È stata una forte emozione rivedere bambini e famiglie dopo tanti mesi di inattività, ha affermato Rita Insolia, direttrice ad interim del parco. Grande commozione ed è stato in noi la presenza della coppia di infermieri che finita l'emergenza ha deciso di visitare il teatro greco per festeggiare il ritorno alla normalità. Adesso le prossime riaperture saranno Palazzo Lacreide e Noto. Per evitare code agli ingressi sarà obbligatorio prenotarsi online.